Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Vittoria nel Ragusano dove i carabinieri hanno tratto in arresto un giovane ladro il quale aveva distrutto un distributore automatico per rubare bevande e snack. Vediamo il servizio. I carabinieri di Vittoria transitando in piazza del popolo hanno notato che era stato gravemente danneggiato un esercizio commerciale di distribuzione automatica self service di bevande e snack pertanto hanno deciso di chiarire quanto accaduto. Sul posto è stato identificato un testimone che ha fornito una dettagliata descrizione dell'autore del reato indicandone poi la via di fuga. Percorrendo la via indicata i carabinieri hanno notato un soggetto corrispondente alla descrizione entrare per una porta finestra all'interno dell'abitazione di un noto pregiudicato sottoposto alla detenzione domiciliare per poi quest'ultimo chiudere frettolosamente la predetta porta finestra. I carabinieri insospettiti da quanto osservato hanno deciso di effettuare degli accertamenti accedendo all'immobile e rintracciando un giovane romeno perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dal testimone. Accanto a lui i militari hanno rinvenuto dei cartoni contenenti varie bevande. Ulteriori accertamenti estesi sulla persona hanno poi permesso di recuperare anche gli snack occultati nei pantaloni. I carabinieri dopo aver acquisito i filmati di sorveglianza dell'esercizio commerciale hanno appurato l'esatta corrispondenza dell'autore del furto con la persona fermata. L'area furtiva rinvenuta è stata restituita a legittimo proprietario mentre l'indagato è stato arrestato in flagranza e tradotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Unitamente al responsabile del furto i militari dell'arma hanno definito anche la posizione del pregiudicato sottoposto a detenzione domiciliare che ha offerto rifugio al ladro poi arrestato deferendolo in stato di libertà per l'ipotesi di reato di favoreggiamento personale. Ancora cronaca ci spostiamo nel siracusano. I carabinieri nella stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato un pregiudicato di 41 anni per furto aggravato. Il 41enne gravato dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria si è introdotto in una tabaccheria del capoluogo a Retuseo e approfittando della momentanea distrazione del titolare ha trafugato il contante custodito nel registratore di cassa, dandosi poi alla fuga. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di identificare l'autore del furto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria, alla quale dovrà rispondere anche di violazione degli obblighi inerenti la misura cautelare. Ci spostiamo adesso nell'ennese. Sono stati confiscati 8 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza, beni per 8 milioni di euro nei confronti di un noto esponente della famiglia mafiosa di Pietra Persia. Il servizio. La Guardia di Finanza di Caltanissetta, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Enna, su richiesta della procura distrettuale di Caltanissetta, ha sottoposto a confisca un patrimonio stimabile nel valore di oltre 8 milioni di euro accumulato da Felice Cannata, esponente della criminalità organizzata ennese, già condannato con sentenza irrevocabile datata 11 novembre 2015 per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione alla sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Pietra Persia. In relazione a tale patrimonio, il giudice ha ritenuto gli indizi sintomatici della provenienza illecita. Cannata, che nel tempo si è occupato di reimpiegare capitali di illecita provenienza in attività produttive del nord Italia, in particolare nei settori della compravendita di autovetture di grossa cilindrata, è stato coinvolto in un'operazione condotta dal GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta, sfociata tra l'altro nella pronuncia di condanna sopra richiamata. Sulla base delle plurime evidenze giudiziarie acquisite, risultate idonee a definire il profilo di pericolosità sociale del soggetto. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Caltanissetta, coordinati dalla locale direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito una mirata indagine patrimoniale nei confronti di Cannata e del suo nucleo familiare, onde verificare la coerenza del relativo tenore di vita e del patrimonio posseduto con i redditi dagli stessi dichiarati. In particolare, le indagini hanno permesso di riscontrare l'incapacità del nucleo familiare del proposto a far fronte agli impegni economici assunti. L'insieme dei redditi dichiarati o percepiti, confrontati con il valore dei beni acquistati e con le ulteriori uscite rilevate nel periodo temporale di riferimento dall'anno 2000 in poi, sono quindi risultati sproporzionati rispetto alle acquisizioni patrimoniali operate, dimostrando un tenore di vita decisamente elevato e incongruo rispetto alle possibilità reddituali o derivante da fonti di lecita provenienza. All'esito dei richiamati approfondimenti patrimoniali, già nel gennaio 2018 erano stati acquisiti elementi idonei per consentire alla DDA di Caltanissetta di ottenere dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Enna il sequestro dei beni oggetto dell'odierna confisca, a seguito della quale vengono ora acquisiti al patrimonio dello Stato un'azienda agricola ubicata in territorio ennese, 77 terreni ubicati in territorio nisseno ed ennese, 11 fabbricati, rapporti finanziari e beni mobili registrati. Fallisce una rapina in banca e subito dopo ci riprova in una sala bingo. Il fatto è avvenuto a Catania e un rapinatore seriale è stato individuato e arrestato dai carabinieri. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno fermato e poi arrestato un pregiudicato catanese di 47 anni il quale ha tentato di rapinare la filiale Unicredit di Catania armato di un taglierino. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'istituto mentre minacciava due operatori della banca avvicinandosi al loro volto con un taglierino. Ma quando i due impiegati gli hanno mostrato che non era possibile aprire la cassaforte prima dell'orario previsto, il rapinatore ha desistito dal commettere il reato, fuggendo a piedi e confondendosi tra la folla. Rimasto a mani vuote, l'uomo si è diretto presso la sala bingo di via Milazzo, zona Piazza Europa, e lì, avvicinatosi a un'impiegata, l'ha insultata e minacciata di morte, facendosi consegnare l'importo di 1000 euro contenuto nella cassa. Entrambe le vittime hanno sporto querela e i militari dell'arma sono riusciti a risalire all'identità del rapinatore grazie alle riprese degli impianti di videosorveglianza, riconoscendo che si trattava dello stesso uomo poiché aveva un tatuaggio con una croce sul viso. Rintracciato, il malvivente è stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto, tramutatosi poi in un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di custodia cautelare in carcere per tentata rapina aggravata e rapina aggravata, in quanto si era avvalso del taglierino per convincere le vittime a farsi consegnare il denaro. Avevano nascosto la droga da spacciare nel quadernone del figlio. Una coppia di catanesi è stata beccata dai carabinieri a Siracusa, ovviamente. Entrambi sono stati arrestati. 350 grammi di cocaina purissima e pressata nascosta tra le pagine del quadernone del figlio. E questo l'ingegnoso nascondiglio scelto da una coppia di catanesi sorpresa a un posto di controllo dei carabinieri. I due, a bordo di un'autovettura a noleggio, in transito, nella frazione di Belvedere di Siracusa, sono stati controllati dai militari dell'arma, a cui hanno subito riferito di non portare con loro alcunché di illegale, dicendosi sorpresi per il controllo. Nonostante la sicurezza ostentata, in modo particolare dall'uomo, l'attenzione dei carabinieri è stata attirata dalla donna, che stringeva forte a sé la sua borsa. I due sono stati dunque condotti presso la stazione carabinieri di Belvedere e sottoposti a perquisizione personale e veicolare. All'interno della borsa della donna è stato rinvenuto un quadernone contenente disegni verosimilmente realizzati da bambini. I militari hanno notato che il quadernone appariva troppo pesante rispetto al suo naturale peso e infatti al suo interno, abilmente occultato, celava un foglio pressato di cocaina purissima del peso complessivo di 350 grammi. La coppia è stata arrestata e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Siracusa, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Siracusa-Cavadonna, mentre la donna in quella di Catania-Piazza Lanza. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa quotidianamente sottopongono a controllo centinaia di utenti della strada, scegliendo, sulla base dell'intuito e dell'esperienza, i soggetti meritevoli di maggiore attenzione investigativa da perquisire. Giancarlo Cancelleri, parliamo di politica, spiega le ragioni che lo hanno spinto a lasciare il Movimento 5 Stelle per trasferirsi in Forza Italia. Due cose, ha dichiarato, mi hanno colpito positivamente. La prima è il concetto di comunità espresso dal ministro Tajani, riferendosi al lavoro sinergico che fanno all'interno di Forza Italia. La seconda, invece, la verve mostrata dal presidente Schifani. Non ho mai avuto nemici, solo avversari politici che ho sempre rispettato e da cui ho ricevuto rispetto. Il Movimento, ha affermato Cancelleri, mi ha proposto la candidatura al Consiglio Comunale di Catania e io ho rifiutato, scegliendo di andare via e non candidarmi. In un mondo in cui tutti lasciano il proprio partito per una poltrona, io sono entrato in Forza Italia rinunciando a una poltrona. Parliamo adesso di cultura con Lucio Di Mauro che ci parla della presentazione del primo libro del giornalista Simone Russo. Sentiamolo. Da un'esperienza traumatica come quella di restare 41 giorni in isolamento a causa del covid, Simone Russo è riuscito a tirar fuori tutto il senso più bello di essere positivi. Simone, l'animatore, racconti di un capovillaggio. Infatti è stato scritto nei 41 giorni di isolamento. Il giornalista Simone Russo ha deciso così di mettere nero su bianco i suoi momenti positivi. Un libro che si pone l'obiettivo di dare un senso doppio a questo ormai triste termine. Questo libro è frutto di un periodo brutto della mia vita perché nel 2021 sono risultato positivo al covid, la variante delta, uno dei primi siciliani a prendere la variante delta e quindi sono stato chiuso in isolamento. Io sono uno di quelli che si dice un paziente long covid e sono rimasto positivo 41 giorni, incredibile questa cosa. Per fare l'isolamento sono andato in una casa disabitata per non stare con la mia famiglia perché nel 2021 faceva paura il covid. Quindi ho vissuto in questa casa dove non c'erano le utenze perché era una casa disabitata. Quindi per 41 giorni senza acqua, luce e gas. Per non impazzire ho detto butto giù delle idee. Seguito da un mio amico psicologo mi ha detto guarda prendi foglie e penna e butta giù delle idee. Sono tornato indietro quando io avevo 20 anni, 18, che ero nei villaggi turistici in giro per l'Italia dove appunto regalavo momenti positivi. Perché prima di questo virus, prima di questa pandemia, il termine positivo era un termine bellissimo e io regalavo positività nei villaggi. Quindi da positivo ho voluto raccontare i miei momenti positivi. Due termini, un termine uguale ma con due significati totalmente diversi. Mi piace sottolineare questo libro, ha un valore doppio perché ha fatto bene a me per superare quei momenti e soprattutto l'intero ricavato di questo libro sarà devoluto a un'associazione di clown terapia all'interno degli ospedali di Catania per portare positività all'interno delle strutture ospedaliere. Dobbiamo riappropriarci del termine positivo che è un termine bellissimo. Dobbiamo riappropriarci sicuramente di questo termine positivo ma anche della nostra vita perché per un attimo ovviamente ci ha fatto soffrire eccetera. Tu hai davanti un'altra persona che ha avuto anche il Covid, per fortuna in forma leggera eccetera. Ma ecco, a proposito, chi deve leggere questo libro? Ma questo è un libro che fa bene a tutti, da ragazzino che vuole entrare nel mondo dell'animazione alla persona adulta e comunque nel mondo dei villaggi, nel mondo turistico ci siamo entrati tutti. Quindi bene o male chiunque si troverà all'interno di questo libro perché è un racconto, un racconto dei miei dieci anni, dieci anni di vita di villaggio dove io da capo animatore ho visto veramente di tutto, è successo veramente di tutto, tutto quello che la gente non vede perché ovviamente la gente è abituato a vedere l'animatore davanti ma poi in realtà dietro c'è un lavoro intredibile e delle situazioni in mega galattiche, da carabinieri a ospedali a liti, c'è tutto all'interno di questo libro che deve essere letto da chi vuole un po' di spensieratezza e in questo momento ne abbiamo tanto bisogno. Era piuttosto deluso mister Ferraro, allenatore del Catania dopo la sconfitta sul campo del Trapani. Ricordiamo ovviamente che i rossazzurri hanno tenuto ormai da diverse settimane la matematica certezza della promozione in Serie C. Sentiamo le parole del tecnico del Catania. Da questa sconfitta ripartiamo più forte di prima perché alla fine è stata una sconfitta che il Catania non la doveva fare però per quello che ho visto il secondo tempo un Catania con 5-6 palle goal, un goal annullato, un rigore rondato, diciamo che ho visto un Catania con una grande voglia e una grande rabbia il secondo tempo. Il primo tempo è stato inguardabile dal punto di vista mentale, l'approccio fisico, però diciamo che nel calcio si sa, vincere così tante partite, errore in motivazione e tutto. Oggi è la 3-4 partita, abbiamo fatto davvero tanti punti di vantaggio, allora con un Trapani motivato, con voglia di fare questa vittoria, diciamo che noi non avevamo la giusta motivazione, anche se quando ci mettiamo la media del Catania non deve capitare, però penso che, non lo so, forse non ho mai visto così tante palle goal come il Catania nel secondo tempo. Non ero nervoso perché penso che la panchina di Strapani a un certo punto stavano tutti quanti in campo, non mi piace, mi piace che si sono solo gli alleatori che stanno in piedi, tutta questa cosa. Il Catania è vero, è una squadra importante, non c'è niente nella Serie D, non c'è niente, però non è che uno batte il Catania e facciamo una vigoria sproporzionata, questo non mi piace proprio nella cultura dello sport, per cui loro erano importanti, le città del Euro hanno fatto bene, facci con i complimenti al Trapani, i complimenti al pubblico, ci hanno fatto un applauso per la partita, è stata una bella accoglienza, però poi la panchina a un certo punto è troppo calda. Catania è Catania, Catania stava 31 punti dopo la seconda, stava 40 punti sopra il Trapani, Catania ha fatto un campionato ostacosferico, oggi ci sento e noi non ci teniamo a prendere questa partita perché abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere, abbiamo una società che non che non voleva abbassare la guardia, abbiamo un pubblico che ci aspetta ogni settimana che voleva una vittoria, per questo diciamo da questa sconfitta che abbiamo fatto, un primo tempo sotto tono e abbiamo fatto un secondo tempo da Catania, ripartiamo più forte di prima per affrontare questa pusciudetta in America Giussana. Ci fermiamo qui, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti.